ecma 2019 siamo nello stand di gazzetto in compagnia di max biaggi innanzitutto grazie di essere qua con noi oggi ecma sempre lo show delle moto della gente ti stanno aspettando una figata come fai a non esserci all'ecma è proprio il santuario della moto sono tutti qua le novità da appassionato vieni per per vedere quello che sarà il futuro del due ruote e qualche c'è qualche prodotto tipo qualche modo che poi andrà veramente visto oppure qualche concept dunque è un po non so è il motoland degli appassionati brand ambassador aprilia ma ti fanno mettere il sedere sulle moto sportive quando stanno per uscire cioè ti danno la possibilità di gustarti in anteprima no sarebbe bello ma più no perché si appassionato un po però è più un lavoro da collaudatori da quelli che lo fanno da tanti anni che hanno poi quell'indole lì però sì mi piacerebbe sbirciare ogni tanto ma c'è sempre tanta molta molta segretezza come tutto come dovrebbe essere però da così da aprile ambassador altri ruoli che mi piacciono e mi danno molto da fare parliamo di quest'anno con un po di amarezza dobbiamo dire una gran bella stagione in moto 3 quello che avete fatto è stato insomma è un ottimo lavoro va riconosciuto perché insomma siete arrivati avete messo alle strette anche un po di avversari noti ma si è l'eccellenza stava dietro l'angolo e abbiamo detto ma perché dobbiamo aspettiamo un po abbiamo fatto un bellissimo lavoro comunque al debutto ma sì se mi avessero detto che all'inizio della mia della mia così carriera da timone avessi fatto un secondo posto speriamo è che non ancora finita al debutto ma ci avrei scommesso anche anche dei soldi però questa è una stagione l'anno zero siamo felicissimi però c'è anche dall'altra parte il fatto che da oggi si aspettano sicuramente di più e per far di più bisogna solo vincere dunque sentiamo pressione per gli anni a venire però siamo pronti ci piace l'anno prossimo c'è anche un cambio visto che siamo in tema moto gp in sello squarna un progetto comunque legato alla famiglia ktm che mi sembra che siano molto pronti ad affrontare l'avventura hanno scelto anche voi da questo punto di vista quindi anche un riconoscimento ma più che altro mi sembra che dalla loro parte ci sia la motivazione che è quello che serve quello che muove tutto la motivazione oltre agli investimenti però se non sei motivato a fare a creare a cercare a sbirciare si applattisce tutto ecco loro hanno voglia di fare magari anche perché no di vincere quest'anno sono andati vicino però poi io mi immagino sempre una moto 3 un anno tocca a un'azienda magari due anni dopo tocca l'altra io spero che sia così perché prima o poi toccherà anche a noi giusto allora ultimissima cortesia saluta gli spettatori chi ci guarda che non per qualsiasi motivo non è potuto venire l'ecma peggio per loro tra l'altro un saluto da max biaggi all'ecma 2019 che vi siete persi